Benvenuti, pillole di Blender, vediamo l'uso dell'edit proporzionale L'edit proporzionale si può cliccare qua, vedete che cliccando abbiamo edit proporzionale e vedete che lo shortcut è O Quindi abilitando con O, quindi se io clicco selezione e poi premo O vedete che cambia questo aspetto, se ripremo O torna grigetto Allora, cosa serve l'edit proporzionale? Per vederlo bene andiamo in un oggetto in cui ci sono un po' di vertici Quindi applichiamo la subsurf, ctrl 3, che è un sistema per applicare un subsurf e avere tanti vertici Applichiamo subsurf e abbiamo questa sfera Ora, se noi andiamo in edit mode e modifichiamo e tocchiamo uno di questi vertici e la portiamo verso l'alto, vedete che succede che il vertice si sposta ma l'effetto sulla sfera non è forse quello che volevamo nel senso che magari noi volevamo fare, tirare su, ma avere un qualche cosa di morbido Quindi l'edit proporzionale serve per spostare un vertice e un pochino anche tutti i vertici vicino Quindi come facciamo abilitarlo? Facciamo O Questo punto è abilitato Vedete che è diventato blu E poi portando in sopra vedete che lui mi tira su questo vertice ma anche i vertici vicini Ora, se notate, si vede poco ma c'è c'è un piccolo cerchio grigio bianco che dice quanto è forte l'effetto del proporzionale e se premiamo pagina giù vedete che il cerchio si rimpicciolisce e quindi l'effetto diventa sempre più localizzato Quindi meno punti concorrono a creare la modifica alla geometria Per averlo un pochino bellino bisogna averlo un pochino più grosso Quindi facendo in questo modo si riesce a modellare alcuni pezzi della nostra sfera o del nostro oggetto in modo tale da ottenere quanto più possibile delle superfici curve piuttosto, se noi se lo spegniamo piuttosto che delle cose di questo tipo dei corni che sono brutti da vedere e che non sono un gran che Quindi questa cosa del late proporzionale lo rivedremo applicata in altri contesti ma nel frattempo imparatelo e l'unica cosa di default late proporzionale si abilita appunto qua sugli editor vicino sui puntini vicino volendo si possono anche applicare su solo i vertici che sono collegati nel caso di geometrie particolari ma diciamo che il default per il momento va bene e questo, seconda cosa, permette di verificare come lui applica il nostro movimento quindi normalmente applica in maniera morbida come abbiamo visto volendo si può farlo applicare in varie maniere quindi randomico eccetera però gli effetti migliori dal nostro punto di vista sono quelli di default almeno per le cose che vediamo grazie a tutti